Riversa ai piedi del letto senza vita, imbavagliata e legata a una sedia, Teresa Castellone, 90 anni, è stata ritrovata così alle 12.30 nel suo appartamento in Corse Europa a Villaricca, una vicenda dai molti punti oscuri che non hanno ancora ricevuto una spiegazione. A effettuare il ritrovamento di Sisina, così come veniva chiamata dai conoscenti, è stato il marito della figlia, che si è sospettito dopo aver provato a contattare più volte l'anziana senza però ricevere risposta. L'uomo è entrato attraverso una finestrella posteriore che dava in cucina, l'unica che non è munita di una grata di ferro. Dopo aver scoperto il corpo senza vita della novantenne, ha subito chiamato i carabinieri. Sull'accaduto adesso indagano sia i militari della compagnia di Giuliano, guidati dal tenente Giuseppe Viviano, sia il nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Gli investigatori per adesso brancolano nel buio. All'inizio si è ipotizzato che la donna fosse morta a seguito di una rapina finita male. Ma a depistare questa ipotesi c'è il fatto che l'appartamento della donna non è in soquadro, le porte d'ingresso non presentano segni di effrazione, non ci sono cassetti rovistati o preziosi trafugati. Elementi questi che autorizzano a formulare scenari diversi, tra i quali quello per cui i presunti ladri, entrati con l'intenzione di rubare, siano poi scappati via dopo essere accorti di aver ucciso la novantenne. Nei prossimi giorni maggiori indizi potranno emergere dall'autopsia della vittima. L'esame della Salma potrà chiarire se la donna sia morta per asfissia o per arresto cardiaco e forse fare più luce su quello che adora si presenta come un autentico giallo.